per il best in show finale, i dieci finalisti per Bassotto Caninca in appelo duro, Siberian Aschi, Beagle, Bracco Italiano, Cocker Spanier, Callino e Greyhound nel pre-ring li vedo già ho il piacere di vedere, di annunciarvi il giudice del best in show che è lì in piedi a bordo ring dalla Finlandia il signor Jussi Limatainen allora, ci siamo, facciamo entrare il rappresentante dei pastori, pastore australiano per il gruppo 2, case di tipo Pinscher, Schnauzer e Molossoidi, Zwer, Schnauzer, Nero per il gruppo dei Terrier, American Staffordshire Terrier per i Bassotti, Bassotto Caninca in pelo duro per il gruppo 5, Siberian Aschi per il gruppo 6, Beagle allora, per il gruppo 7, Bracco Italiano per il gruppo 8, Cocker Spaniel, inglese per la compagnia Carlino per i Livrieri Greyhound vera che fiii Allora, vediamo adesso il pastore australiano. Allora, vediamo adesso. Allora, vediamo adesso. Allora, Gioia Schnauzer nero. Allora, vediamo adesso. Allora, vediamo adesso. American Staffordshire Terrier. Allora, vediamo adesso. 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 Allora, vediamo. Allora, vediamo adesso. 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 vediamo adesso. Allora. Vediamo adesso. Vediamo adesso. Allora. Allora, vediamo adesso. 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 Ecco il Carlino. Aprender a dar. 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 Duro, Siberianaschi, Beagle, Bracco Italiano, Cocker Spagna è l'inglese, Greyhound. Aprender a dar. Aprender a dar. Allora, anche per l'ultima internazionale vi è il... Allora, anche per l'ultima internazionale. Oltre alle premiazioni di rito abbiamo sempre un dipinto raffigurante forlì, una panoramica di forlì, una panoramica di forlì dipinta dal pittore cesenare Pier Romagnoli che è qui con noi, che ha omaggiato insieme all'altra pittrice, Irene Crudeli, e quindi tutte le quattro... e quindi tutte le quattro manifestazioni con questi bellissimi dipinti di panoramiche della città dove veniva organizzata l'esposizione. Quindi Lugo, Imola, Forlì e Rimini. Allora, ci siamo, il giudice Yussili Matainen premia e classifica al terzo posto il Carlino. E' pronto per la premiazione il presidente del gruppo scenofilo di Forlì, l'ingegnere Garoia e il consigliere Maria Cagnoni, riserva di best in show per il Greyhound. Vince Bracco Italiano! Ok, quindi Bracco Italiano, best in show qui all'internazionale di Rimini, di Forlì, scusate. Al secondo posto riserva di diversi show per il Greyhound, al terzo posto il Carlino. Un grazie a tutti, espositori, ai giudici, a tutti quelli che hanno lavorato per la realizzazione del Romagna Winner e un arrivederci al prossimo anno, sempre l'ultimo fine settimana di gennaio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.